Caltanissetta In fiamme un'abitazione di via Cardinale Dusmet nel popoloso quartiere Santa Flavia a Caltanissetta nella tarda serata di ieri. Immediato e provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco con un'autoscala e diverse squadre che si sono prodigati immediatamente nell'opera di spegnimento dell'incendio, rimuovendo anche una bombola di gas dalla cucina all'ultimo piano dell'edificio. Messo in sicurezza lo stabile, dopo la temporanea evacuazione, per le famiglie degli altri piani è stato possibile tornare a casa. Non è stato così per un cinquantenne, l'unico abitante dell'appartamento che ha riportato notevoli danni. Rintracciato poco dopo dalla polizia all'esterno del palazzo, è stato arrestato perché sarebbe stato lui a causare l'incendio. Dopo una perquisizione è stato sequestrato un accendino. All'interno dello stesso appartamento sono stati trovati dei materassi disposti a piramide, a quanto pare per alimentare le fiamme. Ora l'uomo si trova al carcere Malaspina, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si è spento Michele Santoro, noto in città in diversi ambiti, dallo sport al mondo della fotografia e non solo. Michele Santoro era un cameraman di lungo corso. Aveva cominciato a videotrinacria negli anni Ottanta, nella stessa tv diretta dalla sorella Rossana, storica speaker del telegiornale, e del cognato Osvaldo Lograsso, che lo vollero tra i collaboratori più fidati di quell'emittente. Michele Santoro era una persona solare, straordinariamente semplice, era amico di tutti e non è una frase fatta. Su Facebook sono centinaia i commenti degli amici di Michele e non solo, di quanti hanno avuto il piacere e l'onore di conoscerlo, perché Michele era una persona speciale. Era soprattutto un padre e un marito esemplare per Simona, conosciuta giovanissima, e con la quale aveva creato una splendida famiglia con quattro figlie. Il suo sorriso era contagioso, la battuta sempre pronta e la grinta dell'eterno ragazzo. Aveva superato da qualche anno la soglia dei 50 anni, non aveva mai perso lo slancio e l'entusiasmo del combattente verace, anche dinanzi a un male che da qualche tempo lo aveva colpito, segnandolo giorno dopo giorno. Michele Santoro fino alla fine ha giocato la sua partita con la tempra del campione. Sì, perché Michele Santoro era anche campione d'Italia, titolo conquistato con gli allievi della PGS Don Bosco Calcio nel 1983. In quella squadra, allenata da Antonio Lupo, anche Davide Lapaglia, Valentino e Fabrizio Fama, Ignazio e Giuseppe Riggi, Gabriele Falzone, Sergio Verdone, Michele Di Filippo, Andrea Maira, Liborio Passaro, Massimo Chiarello e altri ragazzi dell'oratorio salesiano Sacro Cuore, dove Michele era di casa. I funerali venerdì, alle ore 16, in Cattedrale. Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha annullato il provvedimento di sequestro dei beni all'ex leader di Confindustria Antonello Montante, ritenendolo infondato e ordinando la restituzione di tutti gli immobili all'imprenditore. La Corte d'Appello di Caltanissetta, presieduta da Andreino Chipinti dopo la condanna di secondo grado, aveva accolto la richiesta del Comune di Caltanissetta, costituitosi parte civile con l'Avvocato Raffaele Palermo, disponendo il sequestro della villa di Serra di Falco di Antonello Montante e altri beni immobili. Al provvedimento si erano posti legali di Montante, gli Avvocati Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina, i quali hanno poi presentato ricorso al Riesame. I difensori, nel discutere il proprio ricorso, hanno sostenuto che non c'erano i presupposti per disporre un sequestro conservativo, in quanto Montante non ha posto in essere alcun atto di dispersione del patrimonio, e quindi non c'è rischio che in caso di sentenza definitiva di condanna non assolva ad eventuali obblighi. Nel processo conclusosi la scorsa estate, la Corte aveva ridotto la pena per Montante a 8 anni, rispetto ai 14 decisi in primo grado. Con lui erano stati condannati il capo della security di Confindustria, Diego Di Simone, che si era visto infliggere 5 anni, e il sostituto commissario Marco De Angelis a 3 anni e 6 mesi. Ora si attende che venga fissata la Cassazione. Secondo l'accusa, Montante avrebbe messo in piedi un'attività di dossieraggio, potendo disporre di notizie riservate per colpire i propri avversari, e avrebbe condizionato la politica regionale. Associazione a delinquere, corruzione, accesso abusivo al sistema informatico, rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento, i reati contestati a vario titolo agli imputati. Attualmente sono pendenti altri due processi in ordinario davanti al Tribunale di Caltanissetta. È un vero e proprio mistero quello legato alle telefonate anonime e dal contenuto intimidatorio di cui sono state destinatari e due sorelle di Canicattì nel giro di poche ore. La prima a ricevere le minacce è stata una giovane donna di 28 anni. Quando a risposto alla chiamata, arrivata senza che fosse apparso il numero dell'apparecchio chiamante, visto che è stata usata la funzione di chiamata anonima, ha sentito all'altro capo del filo una voce maschile che le ha rivolto parole inequivocabili, contenenti minacce di morte per lei, il marito e i figli. Esperienza non certo invidiabile, che quasi negli stessi istanti ha vissuto anche la sorella, la quale si è sentita a rivolgere una serie di minacce sulla stessa falsariga. Subito sono stati allertati i poliziotti del commissariato di Canicattì, i quali sono anche riusciti ad ascoltare il contenuto di una delle telefonate mentre era in corso, ascoltando così la voce dell'uomo. L'autore delle telefonate, stando a quanto ricostruito finora, aveva anche dimostrato di conoscere le famiglie, fornendo nomi e particolari riguardanti la vita delle persone offese. Adesso saranno le indagini a chiarire i contorni della vicenda. Da parte loro le due donne hanno affermato di non aver avuto contrasti o altre questioni con nessuno. La polizia ha consigliato a entrambe di rivolgersi al servizio antiviolenza a telefono amico. Derubato di denaro e altri oggetti di valore nei pochi istanti in cui aveva lasciato il suo posto in spiaggia per recarsi al bar. Giornata al mare non certo piacevole quella trascorsa da un uomo di 65 anni di Canicattì, al quale sono stati rubati il portafoglio con i 200 euro custoditi all'interno, i documenti e la carta del bancomat. L'uomo aveva deciso di trascorrere una giornata al mare a Lido Poliscia di Licata. A un certo punto aveva fatto una pausa e si era recato al bar, lasciando lo zainetto incustodito nel luogo dove si era fermato. Al suo ritorno ecco l'amara sorpresa. E a quel punto non ha potuto fare altro che recarsi al commissariato di Canicattì per denunciare l'accaduto. Quest'ultimo caso di furto non è stato certo il primo nella recente estate, sia nella stessa Licata che in altre zone balneari dell'Agrigentino, quali San Leone, Real Monte e Siculiana, dove sono stati presi di mira sia gli averi, che di solito i bagnanti lasciano in borse zaini mentre sono in acqua, e anche le auto di alcuni malcapitati. 8 posti letto, istanze di degenza ristrutturate secondo una logica di umanizzazione delle cure, puntando su strutture confortevoli e gradevoli, anche dal punto di vista estetico. E ancora la palestra, ambulatori dedicati di laser terapia, tecar terapia e ultrasuoni. E' stato rinnovato il reparto per il recupero e riabilitazione funzionale all'interno del presidio ospedaliero Sor Cecilia Besarocco di Niscemi, afferente all'ASPE di Caltanissetta. Le novità riguardano anche il personale, con nuovi reclutamenti assunti infatti fisiatri e fisioterapisti. Una realtà quella creata al Sor Cecilia Besarocco di Niscemi, sottolinea il direttore generale dell'ASPE di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, che completa con un altro tassello fondamentale l'allestimento del presidio ospedaliero. E' l'esempio di una struttura in grado di assicurare quella medicina di continuità che trova spazio su aree più delocalizzate, ma che fa la differenza nel trattamento di patologie croniche da gestire e monitorare nel tempo. Una buona notizia per l'intera cittadinanza. Un traguardo raggiunto grazie anche ad un lavoro sinergico tra comune e aziende sanitarie provinciale, così come viene sottolineato anche dall'amministrazione comunale di Niscemi. La Nissa vince di misura contro il Gela 2-1 e guadagna l'accesso al secondo turno di Coppa Italia di eccellenza. Bianco scudati in vantaggio al diciassettesimo del primo tempo con Morales che scatta sul filo del fuorigioco e supera l'estremo difensore gelese. Sotto di un gol il Gela non si scompone e al ventesimo della ripresa pareggia con Valenti. Sull'1-1 le due squadre si allungano ma è la Nissa a trovare la via del definitivo vantaggio ancora con Morales. Un successo che al di là del cammino in Coppa Italia consente alla squadra allenata da Alessandro Settineri di voltare pagina rispetto alla pesante sconfitta 3-0 di domenica scorsa a Casteldaccia. La partita si è giocata a porte chiuse al campo sportivo 11 martiri di Riesi. Lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta è attualmente indisponibile perché sono in corso i lavori riguardanti la collocazione del nuovo manto sintetico. Intanto domenica 4 settembre è programmata la seconda giornata di campionato. Per il calendario si tratterà del primo impegno casalingo per i nisseni contro l'oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. Successivamente il 18 settembre la Nissa sarà impegnata all'esseneto di Agrigento per un derby che riporta alla memoria confronti importanti in categorie superiori. Il 2 ottobre un'altra partita prevista in casa contro la Parmonval. Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì. Che attenzione vedrà il passaggio di un fronte perturbato sul centro nord dell'Italia, perturbazione atlantica che porterà acquazioni temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Si rischia la grandione, si rischiano raffiche di venti improvvise invece il sud Italia vede ancora condizioni meteorologiche estive con tanto sole e temperature che rimangono lì al di sopra della norma. Possiamo controllare anche le precipitazioni attese sul nostro paese con le piogge che si concentrano principalmente sulle regioni settentrionali ma che coinvolgeranno anche buona parte del centro Italia specie il versante tirrenico. Quindi in definitiva c'è una giornata davvero molto variabile instabile al centro nord e ripeto attenzione potremmo avere fenomeni anche di forte intensità meno probabili sul versante adriatico dove comunque qualche breve piovasco potrebbe in ogni caso passare. Invece al sud tempo bello, cielo sereno, poco nuvoloso e temperature al sud che potrebbero anche sfiorare in alcuni casi 35 gradi all'ombra. Al centro nord invece specie nelle regioni settentrionali temperature in netto calo con valori ben al di sotto dei 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio cosa si rischia da voi perché davvero l'acquazione e il temporale al centro nord saranno sempre dietro l'angolo consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.